Direi ragazzotti miei che sia arrivata l'ora di parlare insomma della partita che ci sarà tra un pochettino tra 5-6 minutini provo a fare il mio pronostico Torino-Juventus sapete questo qua è un gran derby certo nella storia è vero che la Juventus è sempre più vinto però comunque il Torino non è che si è mai rifiutato di fare il derby contro la Juventus insomma il Torino ci ha sempre provato quest'anno c'è la possibilità di vincere perché secondo me oggi vincerà il Torino ho visto un po' le formazioni ho visto tutte le varie robe vedo Allegri con Kinn con Vlaovic centrocampo a 5 non c'è Paredes ha giocato Cadelli invece il Torino deve un po' adattarsi non ci sono tanti attaccanti con la sforza della difesa con Milinkovic il mio pronostico arriviamo al mio pronostico secondo me la Juventus è un gol a prende 2-1 2-1 Torino e dico che il due gol del Torino uno Vlasic e uno Lazaro mentre per la Juventus segna Locatelli sì Locatelli deve cercare il gol e forse penso che oggi segnerà non ne so sicuro però secondo me un golletto la potrebbe fare Locatelli fate anche voi questo in commento il vostro pronostico ovviamente ciao tanto da Juventus perde speriamo come 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 come